pronti a prendere via la prima parto intercettante superverso Bellusco, Cardano, Huboldo, Cassano Dabba, Reggio Martino queste sono le formazioni che stanno sentendo anche qui di quantità erano i primi sette punti per quanto riguarda il momento di turno questa è la prima, Bellusco e la prima siamo al cambio in questo momento abbiamo come volete disputato il cambio da tutte le formazioni di Nibaro inizia a fare una possibilità di passare l'alba formazione contro il distinto della nuova città che stanno sentendo molto bene di vantaggio ripeto che da sempre l'interno della città di Nibaro con il tempo alla città di Nibaro 51-05 51-05 e il tempo indicativo il tempo ha avuto a vedere la testa di Nibaro per la semifinale numero 2 la seconda posizione siamo al cambio viviamo questo momento con gli appoggiati non esce direi decisamente bene la formazione della voce inizia interiattica aumentato il proprio contagio ma avete visto che il tempo di poi sarà la parada padronica per rinagare formazione che all'anno di l'unico di prendere parte la cosa che non lo va anche se si avviene 15,82 leggermente superiore e la paranza anche le attività formazioni che compongono la testa batteria e la pagania a spaventarsi dove inizia tutti i nostri toglieri e la linea se direi comunque non ve l'ho più fatto tutte le altre formazioni vanno a andare a rompermi quasi un po' per una tua parte di formazioni vediamo che mi riesce a guardare da questo cambio che per me la cosa musica guarda il mio po' la notizia di un bambino che sta in seguito in carriera siamo arrivati con il bambino con la scuola con il bambino vediamo il tempo per queste formazioni che è di 50 e 72 che per me è una patenza di queste artistazioni forse iniziale portato da tutti gli attretti padronesi che prendono dentro la scuola che si tratta per un interno cercando di guardare la prossima posizione di salatoio e la risposta di un momento fondamentale in questo sito di gare hanno cambiato quasi tutte le promozioni praticamente in questo sito il primo Noso Laguna tra le rotte per il nuovo ravvicimento della promozione della scuola di Cassiano D'Arbo in questa posizione di una 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 risposta di un'altra risposta di una posizione